Sindaco Alessandrini, ieri lei è stato ascoltato in procura come persona informata dei fatti sulla vicenda delle menze scolastiche. Ci sono anche altre novità perché voi potrete procedere probabilmente con la risoluzione contrattuale con le aziende per inadempienza delle stesse. È premesso che io mi sono spontaneamente recato in procura a rendere sommarie informazioni testimoniali rispetto alla vicenda delle menze che come è noto ha generato un sequestro penale, una conseguente apertura di attenzione e ci sono andato naturalmente perché avevamo sin dall'inizio di questa vicenda in cui, lo ripeto, noi ci sentiamo parte lesa, avevamo avuto contatti, aggiornamenti con la procura della Repubblica. Ho cristallizzato lo stato dell'arte rispetto a quello che è accaduto in questo comune, rispetto alla volontà anch'essa già espressa, quella per cui noi dobbiamo garantire che il prossimo anno vi sia un nuovo soggetto gestore del servizio di riflessione scolastica. Ci accingiamo infatti a risolvere negozialmente, una risoluzione per inadempimento, il rapporto con la ditta esistente. Ciò alla luce di una serie di documenti e una serie di analisi che ci sono state comunicate in questi giorni, noi riteniamo con ritardo e il cui contenuto mostra anche una carenza di controlli rispetto a una criticità verificatasi nell'aprile scorso. Questo fermo restando naturalmente l'accertamento giudiziario, eccetera, ma noi a livello civilistico intendiamo appunto cessare rapporti con la ditta che fino a ieri è stata appunto responsabile del servizio mezzi a pescare, immaginando che ci possano essere soluzioni che vanno incontro a questa voglia un po' di tranquillità, di chiarimento, di chiarezza che è emersa con tanta forza rispetto al mondo della scuola, dei genitori che naturalmente sono rimasti con noi decisamente colpiti da un'intossicazione di queste dimensioni.